Staccati dalle cose normali, goditi la vita, vieni allo stadio, gioca anche tu gli incontri con la tua squadra del cuore. Sai com'è bello non potersi frenare, dimenticare tutto e gridare GOL! Uno spettatore in più è un motivo in più per vincere. E la tua Cireale ha bisogno della tua presenza, proprio per vincere. Grazie a tutti.